Vi do ufficialmente il benvenuto ad un nuovo format di questo canale, ad una nuova serie di video su questo canale, ovvero la serie che ho deciso di chiamare TG Otaku, il TG fatto da un otaku per gli otaku. E in cosa consiste questa nuova serie di video? Praticamente una volta alla settimana verranno caricate questo TG Otaku, un nome ovviamente ancora Work in Progress, perché poi questo è tutto ancora un Work in Progress, considerate questo come episodio pilota, sono aperto a tutti i suggerimenti possibili. Comunque caricherò questo video dove, più o meno nel fine settimana, sabato o domenica, infatti è un caso ancora più particolare il fatto che questo sia inizio settimana, perché appunto è un episodio pilota, comunque nel fine settimana caricherò questi video dove commenterò le notizie della settimana riguardanti il mondo anime, manga e videogiochi. Quindi non tutte le notizie, ma le notizie che ritengo più importanti, quelle più curiose, quelle che danno adito a un commento, a un'analisi. Ovviamente questo primo video, questo episodio zero, chiamiamolo così, quindi non è proprio il primo episodio, è appunto l'episodio pilota, non raccoglierà le notizie della settimana appena passata, ma anche delle settimane precedenti, dato che era da un po' che volevo fare questo video, ma l'ho sempre rimandato. Quindi direi di iniziare con il mondo anime e manga, con l'annuncio dell'ultima forma, della nuova forma, della nuova trasformazione di Goku in Dragon Ball Super, o come viene chiamata, la vado a leggere, la maestria dell'ultra istinto, oppure il Goku più forte di sempre, come è stato definito. Ora, io ho già detto un po' la mia opinione su Dragon Ball Super, l'ho detto in un live, ma lo ripeto, io non sono un grandissimo fan di Dragon Ball Super, anzi, sono un grandissimo amante di Dragon Ball, questo assolutamente, ma Dragon Ball Super secondo me non aveva senso di esistere. Poi, dopo il fatto che hanno portato il Super Saiyan rosso, dopo quello giallo, il Super Saiyan rosso, e quello blu, e quello viola, e quello rosa, e quello nero, e questo adesso è grigio, c'è veramente, si è veramente, è grato un filino, troppo, io, va bene, nel portare Dragon Ball di nuovo in auge, ero contento, e secondo me dovevano rimanere sotto forma di film, ma una serie assolutamente no. Infatti, ha finito il fattore nostalgia di questo, di questo su questa serie, che per me era già finito da un bel po', comunque, è il fatto che Dragon Ball Super non continuerà più, infatti questi sono gli ultimi episodi, in queste settimane ci saranno gli ultimi episodi. Continuerà sotto forma di film, che è quello che doveva continuare, che doveva essere fin dall'inizio. E ora parliamo di un mio grandissimo amico, ovvero di Kubo, Kubo che ha rilasciato un'intervista, dopo che ovviamente si è preso questa pausa da Bleach, dopo la fine di Bleach, ha rilasciato un paio di dichiarazioni, come ad esempio il suo corpo era al limite, ha avuto problemi di salute in quest'ultimo periodo, ha saltato molte fiere, tra cui appunto anche il Luca Comics, quindi lui voleva addirittura riposarsi per 15 anni, ora, diamoci un attimo, quindi calmiamo un attimo i toni, Kubo, e comunque appunto che poi ritornerà con un manga, un one shot, ovvero un episodio autoconclusivo, di una nuova serie, quindi dubito che sia un sequel, prequel, spin off di Bleach, sul numero speciale dedicato all'anniversario di Shonen Jump, e Kubo ha dichiarato che comunque dubita fortemente che questo one shot possa diventare poi una nuova serie. Quindi che dire, il mio rapporto con Kubo lo sapete meglio di me, non l'ho mai nascosto, soprattutto nel video sul finale di Bleach, sul commento al finale di Bleach, non ho mai nascosto la mia opinione su Kubo, speriamo che ritorni a essere quello che era, ovvero fino alla saga di Aizen, quello ovvero l'autore che era fino alla saga di Aizen, di Bleach, perché comunque, lo ripeterò alla nausea, Bleach fino alla saga di Aizen è tuttora un signor manga, e ovviamente la mia speranza è che comunque Bleach sia morto e sepolto, veramente non voglio più sentirne parlare, né con spin off, né con sequel, né con prequel, ora c'è questo live action che dovrebbe uscire in estate, quello lo guarderò con molta curiosità perché i live action, come ho detto, non partono sempre col progetto, piede giusto, però lo vedremo, è manna dei giapponesi, quindi lo fanno dei giapponesi, quindi si spera che ci sia un filo di fedeltà in più, sembra esserci e quindi lo guarderò con molta curiosità, anche perché tratta la prima parte del manga, quindi non il post Aizen. E per chiudere questa prima parte di questo video, dedicata all'anime manga, è stato annunciato ufficialmente dopo settimane di suggerimenti, che ci sono stati dati su chi è o chi non è, è stato annunciato che a occuparsi del manga di Bakemonogatari sarà O'Great, autore di Inferno e Paradiso, di Pyorg Trinity e di tantissime altre manga. Che dire di questo, metterò un'immagine di Senjogara disegnata da O'Great, lui è uno dei miei disegnatori preferiti, uno dei miei mangaka preferiti, assolutamente ha un disegno mostruoso, mostruoso, e lo vedete voi benissimo con questa Senjogara, fantastica. Quindi sono molto curioso di vedere questo grande disegnatore con una serie che comunque non si può dire che abbia avuto un impatto, un impatto non da poco nella cultura otaku moderna. E ora passiamo alle notizie dedicate al mondo dei videogiochi, con una notizia molto vecchia, ma che comunque perché non commentarlo, ovvero al D23 Expo 2018 è stato mostrato finalmente qualcosa di Kingdom Hearts 3, con due nuovi video. Un video dove confermavano i rumor sul mondo di Monster Senko, e il video che ha annunciato che a occuparsi della colonna sonora, del tema principale di Kingdom Hearts 3, sarà di nuovo Utada Ikaru, con Don't Think Twice, ora il nome giapponese non me lo ricordo. Quindi comunque finalmente rivediamo Kingdom Hearts 3, purtroppo c'è ancora questo 2018 generico, hanno semi-smentito una data di annuncio alle 3, ma comunque se vogliono farlo uscire entro quest'anno alle 3, prima o poi la devono dire. Quindi se non lo dicono alle 3, allora possiamo metterci il cuore in pace che uscirà nel 2019. E poi volevo commentare veramente Utada Ikaru, sono contentissimo del suo ritorno, perché è una cantante bravissima, che ha fatto due dei temi principali di videogiochi, veramente tra i più belli nella storia appunto di Kingdom Hearts, ovvero Sanctuary di Kingdom Hearts 2, canzone bellissima, e quella apoteosi di Simple and Clean e di Kingdom Hearts 1, che veramente è... i brividi ogni volta che la si ascolta, quella canzone. Quindi è una cantante bravissima, che ritorna, ho già semi-ascoltata un po' questa nuova Don't Think Twice, ho già rischiato di piangere, quindi passiamo oltre, però veramente sono molto contento, perché questa qua è una cantante molto brava a cantare sia in giapponese che in inglese. E ora parliamo del segreto di Pulcinello, ovvero l'annuncio praticamente oramai confermato, più passano non i giorni, proprio le ore, i minuti, più diventa confermato, ovvero dell'arrivo, della remastered, della trilogy di Spiro, dei primi tre capitoli di Spiro. Alcuni rumor dicono già da quest'estate, altri dicono da settembre, esclusiva temporale per PlayStation 4. E sarà la trilogia per PlayStation 1, ovvero i primi tre capitoli, ovvero Spiro, Spiro 2 per Diana, veramente ci perdo ancora le bave, io con Spiro 2 sono anche andato a recuperare sullo scaffale, che peraltro la mia bella copia, tanto per vantarmi, far vedere i miei gioielli, appunto la copia di Spiro 2 per PlayStation 1, veramente un giocone. Ho tuttora dei ricordi con i monaci, con la loro canzone, che metterò per un paio di secondi, che sicuramente chi l'ha giocato ricorderà, perché veramente è un signor gioco. E Spiro, Year of the Dragon, che tutti, praticamente in tantissimi, ritengono il miglior capitolo nella saga di Spiro. E occuparsene saranno quei grandissimi fighi dei Vicarious Vision, che hanno fatto quell'opera magnifica, quel lavoro magnifico, con l'ensane trilogie di Crash Bandicoot. E peraltro, conferma di questo, non c'è ancora una notizia ufficiale, dovrebbe appunto essere annunciato alle tre, comunque recentemente è stato trovato su Twitter dell'account ufficiale chiamato Spiro the Dragon, che poi è stato subito chiamato in un altro modo, una volta sgamato. Quindi oramai è il segreto di Pulcinella, quindi attendiamo tutti con grandissima impazienza. E quello che posso dire è che, dopo Crash Bandicoot, mi arriva Medio Evil, mi arriva Spiro, mi annunciano anche una remastered di Ape Escape, per me è finito il mondo dei videogiochi, cioè perché dopo questi 4 non ci sarà più niente per me, perché proprio sarebbe il ritorno violento agli anni 90 e alla mia infanzia. Annunciata data di uscita, ovvero il 10 aprile 2018, di Rick and Morty Virtual Rickality, ovvero questo videogioco esclusivo per visori, che arriva finalmente su PlayStation VR, sia in digitale, sia in formato fisico, anche con un'edizione limitata. Ma perché parlarne, perché comunque alla fine non è un gioco importantissimo, no, perché quindi dire... Perché secondo me in questo mondo si parla sempre troppo poco di Rick and Morty. E ora parliamo di anniversari, perché infatti il 20 febbraio di quest'anno è stato il quinto anniversario dall'annuncio di PlayStation 4, dalla conferenza di annuncio di PlayStation 4, di questa console, che magari non ha portato innovazione nel mondo dei videogiochi, ma che è in dubbio essere una signora console che ha dominato il mercato di questi ultimi 5 anni, con ovviamente una politica che contro Microsoft, che tuttora Microsoft ne risente, di questa politica che ha fatto Sony, contro di lei, e che appunto è in dubbio dire che sia una console che ha avuto un impatto sul mercato incredibile, con tantissimi giochi, tantissime esclusive, e soprattutto che ha avuto l'azzardo di puntare su tantissime nuove IP. Vedete appunto Bloodborne, vedete The Order, vedete Horizon, e tantissime altre esclusive. Quindi veramente auguri PlayStation 4. Dato che appunto poi alcuni rumor dicono che nel 2019 ci sia l'annuncio di PlayStation 5. Ma chi vivrà, vedrà. Ma non solo, perché infatti qualche giorno fa è stato l'anniversario, il primo anniversario dall'uscita di Nintendo Switch. Questa sì che invece è una console che ha avuto un impatto anche innovativo, quest'ibrido console fisse, console portatile, che è in totale, da un anno è solo che in ascesa, oramai in ascesa che difficilmente sembra interrompersi, sembra che dia segnali di interrompersi, con grandissimi giochi, grandissime esclusive, Super Mario, Odyssey, Odyssey, come Splatoon 2, e soprattutto con Zelda che tuttora un anno dall'uscita continua a vincere premi. Nonostante annunciati i giochi per PlayStation Plus del mese di marzo, con anche poi alcune modifiche per quanto riguarda la politica di Sony con questo servizio. Perché infatti a partire da marzo 2019 non verranno più portati gratuitamente su PlayStation Plus giochi PlayStation 3 e PlayStation Vita. Quindi a partire da marzo 2019 il supporto a queste due console praticamente lo si può considerare stra-finito. Ci sta, alcuni hanno sempre i soliti complottisti hanno visto nell'imminente annuncio di PlayStation 5 quindi proprio di passare ad una nuova generazione secondo me non è così perché comunque stiamo parlando di una console della PlayStation 3 che ha 12 anni sulle spalle quindi ci mancherebbe ancora che venga supportata e ha dato penso fin troppo e comunque PlayStation Vita che la sua la sua vita è stata solo di due anni quindi non ha proprio senso continuare a supportarla e i giochi di questo mese peraltro sono trascendentali vi vorrei definire perché infatti tranne ovviamente quelli tipo Mighty Number 9 che è questo gioco che ha avuto tantissime critiche e poi gli altri comunque le due punte di diamante sono sicuramente Bloodborne e Ratchet & Clank Bloodborne purtroppo non in versione Game of the Year ma comunque sono due giochi che personalmente ritengo come due dei migliori giochi che ho giocato su PlayStation 4 Bloodborne ne ho già parlato è un signor gioco purtroppo appunto consiglio se lo scaricate gratuitamente dal Plus comunque di scaricarvi il DLC perché è un DLC che è fantastico e Ratchet & Clank perché è un gioco che è talmente divertente che veramente sono due signori i giochi quindi veramente marzo è un ottimo mese questi due giochi possiamo definirli AAA che veramente sono tra i migliori per PlayStation 4 è arrivato un nuovo eroe nel mondo di Overwatch ovvero Brigitte Lindholm la figlia di Torbjorn ovvero quindi nuovo eroe questo Hero 27 che si capiva già che erano alcuni rumor io personalmente avrei messo e spero che arrivi presto la regina di Junkertown perché deve essere un signor personaggio comunque Brigitte è questo supportiro semi-tank semi-support che è già nel nel server PTR è già stata ovviamente nerfata perché era veramente molto forte e sono contento perché nonostante sì io spero nell'arrivo della Junkertown Queen comunque sono molto contento perché sono molto curioso di vedere le interazioni che avrà con suo padre appunto Torbjorn e finalmente abbiamo la data di uscita per l'esclusiva Sony chiamata Detroit Become Human ovvero il 25 di maggio quindi è stata ufficializzata questa data finalmente di questa grandissima esclusiva di dei Quantic Dream non mi veniva il nome che appunto sembra essere veramente un signor gioco se fatto bene quindi se è stato trattato bene sembra essere un signor gioco e che va a confermare un periodo molto buono per PlayStation 4 perché infatti il mese prima il 20 di aprile uscirà God of War questo nuovo capitolo di God of War quindi veramente sarà un mese molto interessante per PlayStation 4 e molto velocemente è stato annunciato che Bethesda terrà la sua conferenza alle 3 quindi di nuovo terrà la sua conferenza il 10 di giugno di quest'anno sono molto curioso soprattutto di vedere cosa annunceranno probabilmente il nuovo Elder Scrolls Elder Scrolls 6 ma veramente sono molto curioso di vedere su cosa appunto era Bethesda perché probabilmente ho anche un Fallout spin-off magari un New Vegas alcuni hanno hanno detto un qualcosa comunque uno spin-off di Fallout ma vedremo sono molto molto curioso anche perché allo stato attuale in campo non hanno progetti o almeno progetti che progetti alla luce del sole quindi questo era l'episodio pilota o primo episodio di questa nuova serie ovviamente date tantissimi tantissimi suggerimenti perché ancora un work in progress quindi ogni suggerimento sarà oro il prossimo appuntamento sarà questo fine settimana con la quando inizierà la regolarità di questa serie e per chiudere volevo lasciarvi con un sorriso perché è una cosa che ha fatto molto molto ridere questa fake news che ha fatto molto sorridere infatti dopo i fatti tragici avvenuti in America di quella sparatoria in quella scuola il presidente Trump ha dichiarato di voler parlare con l'industria dei videogiochi e comunque di censurare sia i film sia i videogiochi violenti perché appunto influenzerebbero la mente dei giovani quindi io lo trovo molto divertente quindi spero di avervi strappato scusate un attimo ah è una notizia vera quindi lui ci crede veramente ok grazie grazie regia grazie 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 grazie